Tra nuove regole e incertezze parte questa mattina l'anno scolastico per 5 milioni e 600 mila studenti di 12 regioni più la provincia di Trento. Conte in un video messaggio a studenti e insegnanti, invita ognuno a fare la propria parte rispettando le regole. All'inizio ci saranno disagi ma siamo con voi. Mattarelle inaugurerà l'anno scolastico a Bo Euganeo. Il segretario del PD Zingaretti chiude la festa dell'unità a Modena e avverte gli alleati. Non siamo subalterni, basta ritardi, questo è il momento della rinascita. Nel centrodestra cresce invece la tentazione di un no al referendum sul taglio dei parlamentari per dare la spallata al governo. Attesa oggi la convalida dell'arresto di Michele Antonio Gaglione che a Caivano in provincia di Napoli ha causato la morte della sorella diciottenne. Maria Paola speronandola mentre era in scooter con la sua compagna trans 22enne. Volevo darle una lezione, non ucciderla ha detto. E' accusato di omicidio preterintenzionale e violenza privata aggravata da omofobia. Doppietta italiana nel Gran Premio di MotoGP a Misano. A vincere è stato Morbidelli secondo Bagnaia. Quarto Valentino Rossi per la Formula 1 sul circuito del Mugello. Duennesimo trionfo della Mercedes con Hamilton davanti al compagno di squadra Bottas. Ancora male le Ferrari con Leclerc ottavo e Vetter solo decico. Le 7.30, buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Dunque ci siamo, oggi ritorno a scuola in molte regioni italiane. Ieri un videomessaggio del Premier Conte per sottolineare l'importanza di questo avvio dell'anno scolastico. E a Voe Euganeo ci saranno presenti il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la Ministra dell'Istruzione Azzolina. Vediamo il servizio. E dalla fine la campanella suonerà. Inizia l'anno scolastico 2020-2021, condizionato dalla paura del coronavirus. Per 12 regioni più la provincia di Trento inizieranno le elezioni. 5 milioni e 600 mila studenti entreranno nelle aule, tanti, ma non tutti, troveranno i famosi banchi monoposto. A loro in particolare si è rivolto il Premier Conte. Tutelate la vostra salute e la salute delle persone che amate e che vi amano, ha detto, ammettendo poi che ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all'inizio. Una sfida che rende la scuola il posto più sicuro in questo momento, assicura la Ministra Azzolina, confortata dal Comitato Tecnico Scientifico che, attraverso il suo coordinatore, Agostino Miozzo, afferma che la scuola non è un pericolo, forse è l'ambiente più protetto. Le mascherine saranno disponibili tutti i giorni. Presso la distribuzione sarà capillare per tutto l'anno scolastico, ha garantito il commissario Arcuri. L'inizio sarà comunque tutto in salita. Dei 2 milioni e mezzo di banchi al momento sono disponibili solo 200 mila. Il resto arriverà fino a ottobre. Continuano a mancare le aule e, altra nota dolente, gli insegnanti. All'appello denunciano i sindacati, ne mancano 200 mila. Il Ministero ammette la carenza di 60 mila docenti. La cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo anno si terrà nella cittadina, simbolo di Vo Euganeo, primo focolaio di Covid. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. La politica, il meso e il doppio appuntamento di domenica animano il dibattito politico, soprattutto nella maggioranza. Vediamo. Chiederemo rigore assoluto al governo che sentiamo nostro e sosteniamo, ma ora dovremo dire basta ai troppi sé, alle attese, ai ritardi. E ai nostri alleati, mi permetto di dire, basta con l'ipocrisia di essere alleati, ma in tv fare la parte degli avversari, perché questo logora, serve progettualità, non si fugge da questo. Lo dice il segretario del PD, Nicola Zingaretti, nel corso del suo intervento di chiusura della Festa Nazionale dell'Unità a Modena. Il messaggio del leader Dem è chiaro e aggiunge siamo uniti, non per occupare poltrone, ma realizzare un programma di rinascita e giustizia. Non abbiamo molto tempo, sapevamo che il cammino del governo era difficile, siamo forse distinte, ma non siamo subalterni. Per il segretario è anche l'occasione per tornare su uno dei punti più divisivi della coalizione giro-rossa ad iniziare dal Movimento 5 Stelle, il MES. E dunque ribadisce la richiesta di utilizzare i miliardi del Fondo Salva Stati e promette combatteremo per la sanità pubblica, perché ancora dovete convincerci del motivo per il quale non ricorrere al MES. Parole che provocano l'immediata reazione dei pentastellati, a parlare il reggente. La nostra posizione sul MES, avverte i crimi, è chiara e non cambia. Restiamo contrari, riteniamo che sia uno strumento inutile e poi abbiamo ottenuto 210 miliardi dall'Europa e dobbiamo pensare a spendere bene quelli. L'attenzione del PD comunque è focalizzata sul doppio voto di domenica e lunedì prossimi. La posta in gioco è alta e a rischiare di più è proprio il Nazareno. Infatti Zingaretti lancia l'appello. Dopo di noi, le destre, siamo noi l'unica alternativa alla loro avanzata. Un invito esplicito per gli elettori dei 5 Stelle perché scelgano il voto disgiunto. Intanto il vice segretario PD Orlando pensa già al futuro e chiede a Palazzo Chigi un nuovo passo. Credo che per il governo sia necessario fare un tagliando per affrontare una fase nuova. Ma ancora una volta dai pentastellati un invito a rinviare qualsiasi discussione. al dopo il risultato delle urne di lunedì, 21 settembre. E intanto nell'opposizione la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, favorevole per il sì al taglio dei parlamentari, dice che invece nel centro-destra si sta allargando il fronte del no. Vediamo perché. Io sono per il sì. Abbiamo sostenuto la legge. Penso che il 99% degli italiani sulla carta sia favorevole al taglio dei parlamentari. Però l'idea che magari la vittoria del no possa creare un suo movimento nel governo rischia di averla meglio. È una Giorgia Meloni incerta tra coerenza e speranza, quella che parla in Puglia. Una settimana dalla doppia scadenza regionale, il referendum attratta evidentemente dall'eventualità di un no a quel taglio dei parlamentari, votato praticamente all'unanimità dal Parlamento, ma che ora, nel rudimentale bianco e nero che contraddistingue il dibattito politico, sembra come il rinnegato sbiadito. Troppo forte evidentemente la tentazione di colpire una maggioranza già di per sé in ordine sparso, con i soli 5 stelle a tenere fede al sì espresso in aula. Tra coerenza e segreta speranza si dibatte anche la Lega, dove per impedire che le voci favorevoli al no si moltiplicassero a vista d'occhio, prima Borghi, poi Giorgetti, poi anche il presidente della regione Lombardia a Fontana, è dovuto intervenire il segretario Salvini, che ha detto stop. Aggiungendo, tuttavia, che la Lega non è una caserma e preoccupandosi, ancora una volta, a potenza di quel nefasto effetto personalizzazione che costò il no al Premier Renzi, di tenere distinta la scadenza elettorale dalle sorti del governo. Non usiamo il voto dei cittadini e delle regioni per logiche nazionali, ha dichiarato anche egli in Puglia. Chi tra coerenza e speranza ha decisamente invece optato per la seconda è Forza Italia, dove il no, arrivato dal leader Berlusconi, ha autorizzato ufficialmente il via libera in un centrodestra, che tiene, ancora una volta, a presentarsi compatto in un'occasione di voto e elezioni referendum che stavolta, complice anche buona parte dell'informazione, potrebbe anche valere doppio. Si allarga con nuovi indagati in inchiesta milanese sui fondi gestiti da alcuni commercialisti vicino alla Lega, un vertice tra gli investigatori di Genova e Milano è previsto in settimana per fare il punto sulle indagini. C'è molto di più oltre all'affare Lombardia film convention nell'inchiesta milanese che ha portato ai domiciliari tre commercialisti bergamaschi molto vicini alla Lega di Matteo Salvini. Negli atti depositati dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco si evince che le indagini, nate quasi per caso da un esposto per la domiciliazione della sede legale del partito Lega per Salvini Premier in un palazzo di Milano perché inconciliabile con i regolamenti condominali puntano ai rapporti dei commercialisti con i piani alti della politica. Come gli incontri riservati di Andrea Manzoni, già revisore contabile del Carroccio alla Camera a Roma tra il 26 e il 27 maggio dopo il licenziamento di un direttore di banca che aveva avallato alcune operazioni sospette e che ai magistrati, come persona informata sui fatti ha parlato di giri di soldi mai visti in 30 anni di carriera. Soldi che arrivavano anche da associazioni vicine alla Lega e movimenti sospetti e registrati su conti riconducibili a Manzoni e al collega di studio Alberto Di Ruba arrestato anche lui. E appare sempre più chiaro come l'inchiesta milanese è interse che quella della procura di Genova sui 49 milioni spariti dalle casse del Carroccio visto che gli uffici di Sciglieri, Di Ruba e Manzoni erano già stati perquisiti nel 2018 per la truffa sui rimborsi elettorali. Un vertice tra gli investigatori di Genova e Milano è previsto proprio questa settimana e l'inchiesta milanese ora tende ad allargarsi con nuovi indagati come l'imprenditore a capo della Barachetti SRL che aveva ristrutturato il capannone di Cormano. Da una informativa dei finanzieri emerge inoltre che su un conto corrente del professionista che in passato avrebbe svolto molte prestazioni per il Carroccio proprio nel periodo in cui si svuotavano le casse del partito. A febbraio 2018, otto mesi prima del caso Savoini al Metropol di Mosca viene registrato un addebito per acquisto di rubli dell'importo di 45 mila euro soldi poi trasferiti in una società russa. Sono 557 finora le proposte arrivate per l'utilizzo di circa 209 miliardi previsti dal Recovery Fund. Vediamo. Riprendono le audizioni in Commissione Finanze alla Camera per definire i contorni del Recovery Plan anche se secondo alcune indiscrizioni sarebbero ben 557 i progetti pronti per essere inviati a Bruxelles. Ma andiamo con ordine. Oggi pomeriggio alle 15 toccherà al direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini rispondere alle domande dei deputati mentre domani sarà la volta del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e a seguire dell'innovazione Paola Pisano. Perché le linee guida, quelle a cui attenersi per ottenere i finanziamenti prevedono che sia privilegiato l'aspetto di riconversione ecologica e quello della transizione digitale dunque è a questi progetti o meglio ai progetti che permetteranno di raggiungere questi obiettivi che si darà priorità. Intanto però, dicevamo, sarebbero state individuate ben 557 proposte per un valore complessivo di oltre 600 miliardi. Decisamente troppo, visto che la pur generosa dotazione europea arriverà al massimo a 209. Le infrastrutture ferroviarie, a partire dalla Palermo-Catania l'alta velocità Napoli-Bari e il completamento della Torino-Lione richiederebbero in tutto qualcosa come 8-9 miliardi. Nessuna indicazione è stata invece fornita su un eventuale collegamento fra Calabria e Sicilia né sotto forma di ponte né tantomeno di tunnel. L'estensione della banda larga e del 5G nei principali comuni del Paese unita alla digitalizzazione della pubblica amministrazione in molte delle sue ramificazioni dovrebbe costare una dozzina di miliardi mentre fra i 30 e 40 miliardi ammonta il conto dei progetti che riguardano la sanità. Capitolo questo abbastanza spinoso perché, come è noto, a tal proposito ci sarebbero i fondi del MES e l'Europa, stando almeno a quanto dichiarato ieri dalla Presidente della Commissione Economica del Parlamento Europeo, Irene Tinagli non vedrebbe di buon occhio l'uso dei fondi recovery appunto per la sanità. Al contrario, dice Tinagli bisognerebbe ad esempio investire e fare riforme per accelerare i tempi della giustizia perché solo una giustizia rapida ed efficiente favorirà ulteriori investimenti. La cronaca ci porta in Campania, a Cavano in provincia di Napoli attesa per oggi la convalida dell'arresto di Michele Antonio Gaglione il trentenne che ha causato la morte della sorella. Vediamo. Volevo darle una lezione non ucciderla ma era stata infettata da quella queste le parole di Michele Antonio Gaglione dopo essere stato arrestato il fratello della vittima avrebbe infatti confermato di aver tentato di fermare a colpi di calci lo scooter su cui viaggiava la sorella ma avrebbe negato la volontà di ucciderla. La sua posizione però si è aggravata ora è accusato di omicidio preterintenzionale e violenza privata con l'aggravante dell'omofobia. Oggi è attesa l'udienza di convalida del fermo Maria Paola aveva da poco compiuto 18 anni la sua famiglia non accettava il suo amore transgender si era infatti innamorata di Cira poi diventata trans Maria Paola è morta sbattendo la testa contro una colonnina di cemento all'inizio della sua morte sembrava essere dovuta ad un incidente a determinarla invece secondo le prime indagini dei carabinieri sarebbe stato il fratello di lei Michele Antonio appunto 30 anni al termine di un inseguimento fatto di tentativi di speronamento Maria Paola esanime per terra sul ciglio della strada siamo vicino ad Acerra in provincia di Napoli Antonio si sarebbe scagliato contro il fidanzato di lei Ciro senza rendersi conto delle condizioni in cui versava la sorella nessuno indossava il casco i genitori di Maria Paola e Michele Antonio dicono che quest'ultimo era uscito per convincerla a lasciar perdere quel ragazzo che non l'ha speronata e che è stato un incidente la madre di Ciro che se l'è cavata con qualche contusione ha accusato invece Michele Antonio di aver commesso deliberatamente un omicidio perché non sopportava quella relazione Don Maurizio Patriciello da 30 anni una guida da queste parti terra di camorra e di droga ha ammesso di sentirsi sempre più sole e che le istituzioni qui non sono mai arrivate ora gli toccherà celebrare i funerali di quella ragazza che conosceva bene che lui stesso aveva battezzato le notizie dall'estero partiamo dalla crisi in Bielorussia occhi puntati tra l'incontro di oggi a Sochi tra il presidente Lukashenko e il sostenitore forte alleato russo Putin l'atteso incontro tra Vladimir Putin e Alexander Lukashenko non risolverà la crisi bielorussa ma servirà almeno a capire quale direzione ha preso volato oggi a Sochi l'ultimo dittatore d'Europa trova ad attenderlo il suo alleato più importante ma si lascia alle spalle un paese piegato da settimane di proteste ieri è stata un'altra giornata pesantissima con almeno 250 persone arrestate tra le decine di migliaia di manifestanti scesi in piazza pacificamente nella capitale Minsk e in altre città il popolo bielorusso chiede non soltanto che la vittoria alle elezioni dello scorso 9 agosto venga riconosciuta a Svetlana di Kanoskaya che molti ritengono la vera vincitrice delle presidenziali ma anche il rilascio delle decine di attivisti e leader politici finiti in manette o spariti nel nulla negli ultimi giorni altri nomi si sono aggiunti alla lunga lista nonostante Lukashenko al potere da 26 anni continui a respingere l'accusa di governare il paese con il braccio duro ma le immagini anche ieri hanno mostrato tutt'altro si sono visti ancora militari con il volto coperto dal passamontagna effettuare arresti soprattutto di giovani continuiamo la nostra battaglia per la libertà li ha esortati la Tikhanoskaya scesa in campo dopo l'arresto del marito leader dell'opposizione e costretta poi a scappare in Lituania per sfuggire all'arresto mentre non è sfuggita al carcere Maria Kalesnikova l'ultima vittima eccellente della repressione arrestata una settimana fa al confine con l'Ucraina per aver rifiutato l'espulsione dal proprio paese Lukashenko si affida quindi al suo alleato Putin il presidente russo non privo però di preoccupazioni la contestata gestione del covid che ha contagiato più di un milione di russi la crisi economica l'avvelenamento di Navalny e le pressioni della Germania che lo sta curando potrebbero indebolire il capo del Cremlino alle prese in questi giorni con un voto che potrebbe essere più che un test locale e ci spostiamo in Medio Oriente a pochi giorni dal capodanno ebraico e dal Kippur Israele ha scelto la strada del lockdown per almeno tre settimane comincerà venerdedì prossimo alle 14 ora locale una decisione che ha visto un duro scontro all'interno del governo che prima ancora che cominciasse la votazione ha registrato le dimissioni dell'attuale ministro all'edilizia e il religioso Jacob Litzman primo paese al mondo a reintrodurre il blocco Israele ha registrato un netto aumento dei contagi che hanno superato anche i 4.000 al giorno e noi rientriamo in Italia per parlare di sport l'atteso fine settimana motoristico sui circuiti italiani ha mantenuto le premesse e le promesse gare spettacolari spettacolari scusate ottimi risultati dei nostri piloti poca gloria invece per la Ferrari mentre per le due ruote successo di morbidelli sul circuito di Misano vediamo meno di due settimane e in Russia per Hamilton potrebbe riuscire l'operazione a gancio a Michael Schumacher a quota 91 vittorie in carriera in attesa a fine stagione di fare altrettanto con il settimo titolo mondiale ma questo non vuol dire che ieri sul saliscendi del Mugello sia stato tutto facile per il campione in carica correre e vincere qui vale tre successi su un'altra pista è stata davvero durissima spesso Hamilton salito sul podio con la maglietta della lotta al razzismo ha detto qualcosa di simile ma forse ieri è stato davvero sincero è stata una corsa senza respiro costellata di incidenti per fortuna senza gravi conseguenze e tre partenze non capitava dal Gran Premio del Brasile di quattro anni fa il primo contrattempo con l'uscita di scena di Verstappen ha spianato la strada ad Hamilton ricacciato al secondo posto Bottas bravo a beffare in avvio il compagno di team dalla serie di contatti ad alta velocità particolarmente grave quello capitato a Carlos Sainz si sono tenuti a distanza due protagonisti della gara chiamiamola così dei terrestri il secondo pilota della Red Bull Albon che ha conquistato il suo primo podio e Daniel Ricciardo che ha sperato nel terzo posto sino agli ultimissimi giri speranze che la Ferrari ha cullato soltanto all'inizio quando Leclerc si è tenuto lontano dai guai installandosi in terza posizione per poi calare alla distanza sino all'ottavo posto alle sue spalle l'Alfa Romeo di Raikkonen pur penalizzato di cinque secondi e l'altra Ferrari di Vettel mai in lotta per un piazzamento da podio a scaldare il cuore ai 3.000 tifosi sugli spalti i giri percorsi dal 21enne Mick Schumacher al volante della rossa campione del mondo 2004 con papà Michel tanta nostalgia e anche un bel po' di frustrazione per la scuderia che sperava di poter festeggiare col sorriso sulle labbra il millesimo gran premio delle sue vetture una domenica esagerata nella terra dei motori declinati all'italiana non potevano chiedere di più 10.000 spettatori di Misano che hanno vissuto il trionfo di Franco Morbidelli il primo in moto GP per il pilota romano cresciuto da piccolo a Tavuglia nell'academy di Valentino Rossi grazie al padre Livio scomparso al quale ha dedicato la vittoria una gara dominata subito al comando e davanti a tutti fino alla bandiera a scacchi alle sue spalle finisce un pecco bagnaia stoico a rientro dopo l'infortunio realizzando la doppietta tricolore che potrebbe essere anche una tripletta se Rossi non si fosse fatto sorpassare a pochi giri dal termine dalla Suzuki di Mir il dottore quarto battuto dai suoi ragazzi terribili gli allievi dell'academy che lo portano a giocare con l'ironia dopo Misano la chiudiamo ma il podio mancato non macchia una buona prova che fa ben sperare per il prosiego del mondiale un campionato che ieri ha visto Quartararo perdere per una caduta la testa della classifica ora nelle mani di Novizioso solo settimo Bridal Italia anche Moto2 con il team di Rossi che piazza il fratello Luca Merini vincitore e Marco Bezzecchi secondo 7.49 minuti il telegiornale finisce qui rimanete con noi però adesso perché ci sono tutti gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale con Patrizia Iorio e poi ci sono le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona e Gaia Tortora che conduce il dibattito grazie a tutti voi una buona giornata ci vediamo domani Grazie a tutti Grazie a tutti